Viaggio Mezzi è il nuovo sindaco di Colonnella. C'è stato un confronto elettorale molto acceso, aperto, grande equilibrio anche dalle urne, però Colonnella ha scelto la sua figura. Sì, ovviamente tutti i concorrenti meritavano. Io penso che la nostra offerta fosse quella giusta per vincere e i colonnellesi hanno capito questa cosa. L'hanno capita non dai programmi che sostanzialmente sono equivalenti, non dalle personalità, ma probabilmente la squadra che mi onoro di aver presentato e forse immeritatamente io siamo riusciti a far capire cosa abbiamo nel cuore. Io in questo momento, ma credo ognuno dei componenti della squadra e di quelli che sono stati eletti, hanno esattamente quello che io ho adesso. Nessuna gioia di essere, come posso dire, arrivati primi, lasciatemi fare questa espressione, usare questa espressione, ma solo quello che dobbiamo compiere a vantaggio, a beneficio di questo Paese, che ne ha bisogno, che lo merita e che anche per la scelta fatta dovremo certamente corrispondere perché è giusto che sia così. E' solo questa la serietà di portare avanti una candidatura e di fare poi delle cose che siano conseguenziali a quanto promesso. La linea della vita ha fatto tutt'altro e poi adesso si è messa a disposizione di quella che è la sua terra d'origine. Assolutamente sì, io chiudo un ciclo perché è evidente che ho più storie alle spalle che programmi futuri. Il desiderio grande è quello di ridare qualcosa a questa terra che mi ha dato tanto, le origini, la testardaggine, la cucciotaggine, come si dice a Colonnella, e credo che questa possa essere utile nel cammino che ho di fronte, insieme alla squadra che è tutta colonnellese, adeguata qui, con esperienza, aziende e così via. È un mestiere nuovo ma è un mestiere anche che credo di aver fatto perché in fondo gestire delle aziende per 30 anni non è poi tanto differente che applicare un metodo imparato in tanti anni, 50 quasi, 49, applicarlo ad un paese per realizzare dei progetti come li si realizza in un'azienda. Primo passo sarà la squadra, farmi sentire e conoscere la squadra, conoscere la continuità a cui ovviamente bisogna dare risalto perché quello che è stato iniziato va completato e poi cominciare con i nostri programmi, sperabilmente trovando rilanci anche da quelle provvidenze che sicuramente arriveranno dall'Europa dove mi sendo più a casa perché avendo amministrato finanza per 50 anni credo che lì probabilmente saremo un po' più attrezzati ad intercettare, a fare, a programmare.